Inizia una settimana intensa sui mercati finanziari, vi faccio vedere quelli che sono i dati, soprattutto per la giornata di mercoledì abbiamo il tasso di inflazione dell'euro che è altissimo ancora al momento e poi alcuni dati fondamentali per quanto riguarda l'economia USA, compreso il discorso di Powell che parlerà un po' di tante cose. E secondo me è anche molto importante poi andare a valutare quello che è la giornata di giovedì dove ci saranno le richieste dei sussidi di disoccupazione ragazzi sempre intorno alle 2.30 orario italiano. Come la stanno prendendo i mercati? Qual è la struttura che in questo momento sta sostenendo Bitcoin? C'è un dubbio, un dubbio in questa fase di natura ciclica, un dubbio che secondo me è un po' sottovalutato e vorrei parlarne proprio in questo video ragazzi. Bene ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, ritorniamo a parlare di dati, di grafici, di analisi sui mercati finanziari, c'è tantissimo tantissimo disillusione nel mercato delle criptovalute, è una cosa che ho notato da un po' ragazzi, questo è teoricamente un segnale bullish. Io scherzosamente lo dico al di là di quello che dicono i grafici che sono un disastro dal punto di vista del trend, sono grafici ragazzi che tendenzialmente ci indicano una fase fortemente preoccupante dei mercati delle criptovalute e lo andremo a vedere anche oggi ragazzi. Non soltanto Bitcoin, anche i dati di natura ciclica non sono buoni, però c'è un solo dato che secondo me è un dato che tira molto l'acqua al mulino della fase bullish. C'è un grafico che vi ho mostrato settimana scorsa di lungo periodo che indica che tempisticamente siamo all'interno di una fascia di tempo adeguata per la chiusura di un bear market importante come questo qui. Ci sono una serie di dati statistici che riguardano l'economia proprio, quindi l'inflazione, anche l'euro di cui ho mostrato su Twitter oggi quello che è un grafico di ripresa che potrebbe implicare anche una riduzione della politica restrittiva della Federal Reserve. E poi c'è un dato inequivocabile, questa disillusione totale degli investitori nel settore delle criptovalute, disillusione che sembra quasi la fine della capitolazione. Ragazzi vi faccio vedere di nuovo il grafico del ciclo dell'investitore. Eccolo qui ragazzi, allora siamo praticamente in questo stato secondo me, vicino la capitolazione. Manca l'affinimento e questa è la mia vera preoccupazione perché c'è tanto tanto disinteresse nei mercati di cripto. Questo è un classico che avviene proprio alla fine di una fase di bear market ed è un classico che ho già visto decine di volte nei vari cicli di mercato. Però tre o quattro volte in maniera consistente nella mia vita perché poi non sono così anziano, ragazzi. L'ho visto anche nei mercati, quelli legati alla bolla di internet quando scoppiò la questione. Tanto disinteresse, come se tutto fosse finito. Non la vedo così e io sono ancora convinto che nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, più che settimane, ci saranno grandi risvolti da questo punto di vista. Andiamo però a fare una cosa. Andiamo oggi, intanto non ci sono dati fino a mercoledì, poi mercoledì parliamo dei dati economici che usciranno e vediamo un po' come si muovono. Oggi vediamo dei grafici che ci dicono un po' che cota è il pericolo di questa fase, soprattutto il fatto che Bitcoin sia ancora in uno stato di indecisione. Vedremo anche Tiromo e Nasdaq 100 perché Nasdaq per esempio non ha questa indecisione di Bitcoin. Anzi inizierei proprio da Nasdaq a questo punto, ragazzi, che è qui. Se mi metto gli occhiali così lo vediamo meglio. Allora, struttura di Nasdaq 100 è base di rimbalzo. Il recupero di Nasdaq sta avvenendo dai minimi segnati lo scorso 13 di ottobre. Questo minimo teoricamente dovrebbe far parte di un ciclo annuale già invertito al ribasso che teoricamente avrebbe la sua naturale struttura di scadenza più o meno tra aprile, scusate, maggio e giugno del prossimo anno. Teoricamente, ragazzi, significherebbe che anche i mercati old continueranno a scendere. Però durante la fase di questa fase temporale potrebbero avere alti e bassi. Quindi non è detto che ci sia una discesa di questo tipo, considerando il fatto che già i mercati siano scelsi tantissimi e che la politica della Fed secondo me nei prossimi mesi cambierà. Anche l'euro sta indicando questo. Vediamo anche il grafico dell'euro così ve lo faccio vedere. Attenzione però a considerare questo dato di analisi ciclica come un dato impattante cioè che deve vincolare al 100% i mercati a scendere. Non è così perché potrebbero esserci dei mancati conteggi che riguardano proprio questa fase della bull run l'ultima grande bull run perché qui i cicli non sono realmente visibili in maniera corretta. Quindi andare a considerare questa fase di Nasdaq come improrogabile ciclo al ribasso io non lo farò ragazzi anche se l'ipotesi di probabilità è la più chiara, è la più evidente. Però è un azzardo secondo me in quanto i cicli precedenti non sono visibili quindi potrebbe esserci sfuggito qualcosa. E questo è molto significativo visto che la Fed pompava i mercati drogandoli a dire basta perciò le strutture cicliche che si basano su movimenti naturali dei mercati non drogati non sono visibili in mercati drogati perciò noi potremmo aver preso dei cicli che non sono quelli e magari questo minimo risulterà poi un domani fra un anno essere il vero minimo del mercato. Quindi al momento come sempre ragazzi vi continuo a indicare trend is your friend che è la situazione fondamentale. Poi è ovvio questo è un mini rimbalzo da qui vedete non è che il mercato Nasdaq abbia fatto il rimbalzo della vita siamo saliti dell'11% però comunque c'è stato questa è la famosa parte finale si è spostato scusate ragazzi lo metto qui ecco la struttura finale del rally di Natale che sta avvenendo sul Nasdaq un pochino un po' come le attese vedete magari questa settimana se avremmo dati positivi della Fed dopodomani probabilmente magari assisteremo a un ultimo grande guizzo e fine dei giochi che era proprio quello che mi aspettavo cioè il rally di Natale che finisce appunto più o meno intorno alla prima di Natale insomma ecco questo qui per sistemare un po' i bilanci eccetera intorno al 25-26 di solito finisce o comunque si staziona poi si vede un po' la questione manca pochino il Nasdaq l'ha fatto le cripto no e questo è molto significativo anche dello stato delle criptovalute in questa fase ciclica di Nasdaq potremmo aver chiuso il ciclo mensile proprio qui sul minimo di martedì 22 di novembre questo è molto significativo ancora una volta perché se qui è stato chiuso il ciclo mensile di Nasdaq significa che ne è iniziato un'altra e noi siamo appena all'inizio di un nuovo ciclo mensile che teoricamente va a finire proprio nella sua naturale chiusura intorno più o meno alla prima settimana di gennaio e quindi teoricamente potrebbe fare appunto proprio la sua parte del rally di Natale e poi chiudere la sua struttura ciclica naturale quindi se questo ciclo mensile verrà confermato, iniziato il martedì 22 novembre secondo me sul lato criptovalute potremmo avere degli svolti positivi dopo questa fase che adesso andiamo a vedere che è una chiusura di un ciclo di bitcoin che è un ciclo più piccolo, si chiama ciclo settimanale allora mi sentirete un po' più spesso ragazzi parlare di queste cose in questa fase perché i prossimi mesi probabilmente nel settore delle criptovalute saranno sempre più tecnici lo so che vi scasso il bip con tutte queste cose da anni e anni e anni ma vedo ancora molta incertezza in alcune mentalità perché moltissimi continuano a ragionare con mindset assolutamente folli per i mercati e gli investimenti e quindi vi ribadisco che i mercati ragazzi non sono sempre uguali e che se anche i mercati cripto negli ultimi anni sono stati estremamente semplici nel cavalcare delle bolle questo non è detto che avverrà anche in futuro magari ritorneranno delle fasi di un certo tipo ma saranno più tecniche secondo me assistere a mega bull run di tutte le cripto a cazzo come l'ultima volta sarà un po' più difficile probabilmente la qualità del progetto che non è assolutamente quella che avete compreso finora con il dettame di analizzare due foglietti di carta ma è legata alla creazione di valore nel mercato cioè di quello che i mercati dicono essere valore sarà molto influente e probabilmente questo cambierà anche il modo in cui bisogna approcciare a questi mercati perché vi dico questo perché in tutti i mercati quelli immaturi e inefficienti che poi sono diventati mercati maturi ed efficienti è avvenuto questo processo che si chiama maturazione di un mercato quindi preparatevi perché queste cose ragazzi non cambiano mai da 100 anni e si ripeteranno anche nei mercati delle criptovalute quindi bisogna alzare un po' l'asticella questo qui è concettualmente il discorso bisogna un po' ragionare in maniera poco poco più tecnica allora questa è l'idea che ho su Nasdaq come si fa a confermare questo ciclo mensile uno, due, tre, quattro manca ancora un po' io direi che aspetterò due, tre giorni per vedere se questa fase tiene attenzione che se questo è iniziato un nuovo mensile poi mi brecca questo minimo diventa tutto ripassista quindi quello ovviamente con trend is your friend sapete bene che non dovete seguire solo la ciclica andiamo a vedere invece la ciclica su Bitcoin poi vi faccio vedere un po' anche Ethereum ma allora Bitcoin è alle prese con questa struttura anzi facciamo una cosa vi metto su la mia struttura ciclica sul settimanale questo è la mia dashboard o workspace che condivido con gli utenti dell'Academy oggi ve lo mostro anche online ragazzi ne parliamo sempre ci sono diverse strutture quelli di sopra sono i cicli inversi non li considerate in questa fase e invece questa è la struttura del ciclo settimanale che vi volevo far vedere guardate qui la struttura del ciclo settimanale in fase di chiusura proprio questi ultimi ultime ore ultimi uno o massimo due giorni di chiusura di un ciclo settimanale che esattamente come gli altri ragazzi solo che dura di meno cioè i cicli si ripetono in termini di struttura di movimento hanno più o meno le stesse caratteristiche i cicli piccoli si durano di meno ma anche sono estremamente più complessi a volte non ha senso tradarli perché i movimenti l'ampiezza dei cicli è sempre troppo bassa allora magari non ha molta utilità fermo restando che qui potremmo aver proprio chiuso un ciclo in questa fase a dire la verità mi aspetto ancora un po' di ribasso come vedete qui è una struttura che più o meno ci potrebbe stare come aria quindi intorno siamo vicini però attenderei dopodiché bisogna assistere a una ripresa dei prezzi che vada di nuovo ad aggredire questa fascia di livello di prezzo cioè i 1600 e questo dal punto di vista di struttura ciclica su bitcoin che poi porta al top ciclico rilevantissimo secondo me in questa fase che è 17.215 e quindi ci sono ed esclusivamente un eventuale superamento di questo livello qui detta lo sprint finale per il famoso rally di natale che al momento è avvenuto solo su alcune cripto non su bitcoin bitcoin veramente debole ragazzi continua ad essere veramente debole dovremo ragionare ancora di più nelle prossime settimane su questa cosa quindi solo unicamente con queste fasi come vi ho fatto vedere potremmo assistere a un rally di natale che cos'è il rally di natale lo mi specifico per i tardoni chiamiamoli così mentali o quelli che fanno finta di non capire è un rialzo che dura fino alla metà fino al 20 intorno al 20 di dicembre ma che non è il rialzo della vita è un rally di natale ok quindi lo ribadisco diciamo per i cosiddetti lenti ma diciamo così allora nel momento in cui andiamo a vedere adesso il ciclo invece mensile vi faccio vedere il dubbio che su bitcoin attanaia un po' ragazzi minimo intorno alla prima decada di novembre con il caso FTX poi minimo successivo la famosa bam bam la molla o ciclo 1,2,3 John Ross o il pattern Kaimi per chi di voi ha studiato nei miei corsi questo è un pattern Kaimi al perfezione ragazzi però si va a configurare solo se ritorniamo poi al di sopra di questo livello qui al momento però questi doppi minimi con il touch del minimo inferiore il rimbalzo è un classico pattern come quello che vi ho insegnato appunto nel corso basic è un pattern Kaimi questo è un pattern di accumulazione con riduzione del rischio si chiama così intorno a pochi punti percentuali cioè un pattern di accumulazione ma da trader ragazzi quindi non vi mettete lì a dire ah buy the deal non esistono queste cose non è bene no 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 se poi succede che inverte il trend di lungo periodo ve lo dico però al momento non è così al momento questi sono solo trader li potete fare solo se siete trader oppure fate delle scommesse fatti vostri però poi se le cose girano storte dovete scappare e alzare le tende però qui c'è una struttura di accumulazione ragazzi che si sta andando a creare che ha pochissimo spazio di stop più o meno un 5-6 punti da un punto di vista ciclico però c'è un'anomalia perché o questa fase qui ha iniziato un nuovo mensile che è ribassista quindi deve andare a metà di dicembre oppure è iniziato qui il nuovo mensile di bitcoin il precedente è stato un po' più un po' diverso un po' più lunghetto ed è andato a chiudersi proprio su questo minimo del 21 di novembre tutto ciò si scoprirà tra poco perché se già nella prossima fase del ciclo settimanale che vi dicevo noi andiamo a breccare questo livello di resistenza 16,8 allora probabilmente il mensile sarà iniziato qui lo sapremo tra poco ma in sostanza non abbiamo molti non abbiamo molto spazio questo è un bene per i trader perché si riducono le nostre possibilità e quindi significa il mercato o nell'uno o nell'altro caso deve iniziare a dare delle risposte sto accumulando una serie di criptovalute per trader lo ribadisco da trading e ne abbiamo già parecchie di cui due che sono andate in hyper pump che sono link e dodge ovviamente come potete vedere dodge solo perché faccio il trader o perché me lo tengo il portafoglio per i prossimi 99 anni anzi se continuo a salire a un trend lineare a rialzo me lo tengo fino a una emozione perché seguo il trend però ragazzi ovviamente non vi mettete diciamo a ragionare con altre ottiche quindi questa è una fase che secondo me bitcoin stesso potrebbe essere preso in considerazione per un'eventuale fase di accumulo però è molto più lento di altergritto quindi io da trader ragazzi devo dirvi la verità preferisco tradare altre crypto in questa fase piuttosto che bitcoin perché non è operazione di holding non sono quel tipo di operazioni quindi preferisco andare dove tira il vento e questo è da trader ragazzi in questa fase diciamo preferisco ragionare da trader piuttosto che da crypto enthusiast è iper diciamo affascinato dalla tecnologia crypto me lo dovete scusare questa cosa perché li dovete scusare però ci sta allora la struttura di ethereum lascia come sempre nuovi dubbi perché ancora una volta ethereum sul minimo del 9 fa un minimo ma sul minimo successivo del 22 teoricamente non tanto perché qui abbiamo una specie di doppio minimo quindi questo minimo è toccato ci potrebbe stare per definirlo una chiusura di un ciclo a 40 giorni ethereum le fa sempre più lunghi sì ci può stare ancora una volta anche su ethereum attenzione al superamento di questo livello qui anzi è poco poco più alto questo qui intanto doppia zona di media 21-11 questa zona se è superata a 1.2 e 30 confermato in close daily e considerato anche tutto quello che abbiamo detto anche su nasdaq eccetera e anche i dati di questa settimana dà il via ad una fase anche questa di recupero con l'inizio di un nuovo ciclo mensile che è questo poi bisognerà andare a vedere dove chiude questo ciclo mensile e in che forma è ma io in questa fase sui mercati e le criptovalute vedete teoricamente dovrebbe andare in chiusura proprio dopo il rally di natale verso la fine del mese quindi questo è il mensile che può fare il rally di natale se non lo fa amen vuol dire che non si verificherà nei mercati delle cripto questo è il giorno di natale 24 la vigilia del giorno di natale quindi o andiamo a fare questo rally così ragazzi e poi andiamo a chiudere oppure non ce l'è più quindi superamento di 1-2-30 o la SPAC operazione di trading che però potrebbe essere ghiotta e anche ripagare moltissimi dei danni subiti per esempio dagli imbrogli di FTX e quant'altro qual exchange bisognerà utilizzare da qui in poi ancora continuare o meno a fare trading utilizzando i checks assolutamente obbligatorio ragazzi mi dispiace che ancora la DeFi o la finanza decentralizzata non riesce a dare risposta per i trader veri ma abbiamo necessità almeno io ragazzi non riesco in nessun modo a fare trading veramente trading su una DEX se non fare delle operazioni di lunghissimo periodo sto utilizzando altri exchange che ne parlo in un prossimo video così ne parliamo anche perché per fortuna con Binance che ha tirato fuori la Proof of Return avremo probabilmente una serie di exchange che incominceranno a seguire quella strada questo io ve lo ribadisco poi oggi è novembre del 2020 28 novembre 2022 fra un anno se questa Proof of Reserve e Proof of Solvency sarà diventata un standard nei mercati cripto noi avremo fatto un pasto avanti come non mai in un settore come questo ve lo ribadisco questo è un dato molto importante quindi seguite attentamente quello che succederà su quel lato Proof of Reserve Proof of Solvency perché se diventa uno standard per tutti i checks e le se fai soprattutto noi avremmo fatto un passo avanti di molto di gran lunga superiore quindi il famoso stepno dell'innovazione magari sarà così quindi allora per concludere ragazzi situazione di mercati cripto in bilico i livelli ve li ho detto secondo me in questa fase giocare la partita dell'accumulo per un eventuale relineatale continua ad essere la meno rischiosa sarà quella giusta questo purtroppo lo sa solo il mercato quindi poi in caso si va in stop ragazzi ciclicamente ci sono delle difficoltà a comprendere alcune strutture avremmo bisogno di qualche giorno però in questa fase secondo me ragazzi conviene appunto ragionare in questo modo fatemi sapere voi che cosa state facendo e se vi interessa qualche cripto in particolar modo che mi è sfugita che magari ha un bel trend lineare al rialzo non mi buttate dentro spazzatura di spazzatura solo roba capitalizzata perché altrimenti neanche la guardo mi imbrattate i commenti di youtube e basta va bene quindi se c'è qualche cripto che sale buttate laggiù con un trend però rialzista che non sia manovrato da i soliti diciamo che fanno i pump and dump e quindi deve avere uno storico lungo e un progetto alle spalle lungo eccetera altrimenti ragazzi arriverò vabbè i classici scamboni ciao a tutti e buon inizio settimana